Sono due aspetti fondamentali, il timore del giudizio e il timore della carenza affettiva. Sono due pirassi fondamentali delle dinamiche umane, assolutamente investono anche elementi fuori dalla classificazione umana, i gattini, i cagnolini, hanno anche loro, ovviamente gli animali in sostanza, quindi non mi riferisco a voi ma agli altri animali, hanno il bisogno di appagare le esigenze affettive e di essere accettati, perché il giudizio riguarda l'accettazione, il giudizio riguarda essere accettati, accolti, mentre il timore affettivo di non avere quell'affetto in cui si ha bisogno di avere nella vita riguarda il senso del rifiuto, non del giudizio, ma di essere rifiutati, non del giudizio negativo, ma di essere rifiutati. Quindi praticamente parliamo di impedimento, impedimento vuol dire il rifiuto in amore, nel sentimento d'amore, di essere accolto, accettato dall'oggetto di desiderio, questo è importante, ossia da quell'elemento sia esso chimico, sia esso persona, carne e ossa, che abbiamo identificato essere significativo nella nostra vita, come per il fumatore e la sigaretta.